Ministro, un appuntamento importante ad Arezzo per non tornare indietro, che è un po' il filo conduttore di questa campagna elettorale. Sì, proprio noi ci siamo resi conto che l'Italia ha fatto dei grandi sacrifici durante quest'anno e questi sacrifici non debbono andare perduti. Questo mi sembra il punto decisivo e non possono essere affidati ai soliti protagonisti di sempre. Quindi un rinnovamento, ma ad altri schieramenti piovono accuse del tipo una politica troppo legata alle volontà della Germania, una politica non accettata dal Paese? Ma vedremo cosa diranno gli italiani con il voto, se questa politica sarà accettata o no. Una politica non accettata dal Paese? Io credo gli italiani voteranno scelta civica e lo diranno loro. Legata alla Germania? Dettata dalla Germania? Beh, la politica era dettata dalla Germania quando l'Italia non aveva prestigio e credibilità in Europa. Oggi mi sembra che l'Italia, come si è visto anche dall'ultimo Consiglio europeo, abbia acquistato credibilità e prestigio, tanto che ha avuto un ottimo risultato nel bilancio. Questa sera è tornato di nuovo ad Arezzo dopo essere stato a Rondine. Ci sono molti ragazzi. Qual è il messaggio che si può mandare? Il messaggio è che questo Paese deve essere fatto a misura di giovani, deve essere aperto ai giovani e aperto al mondo. L'Italia è un Paese troppo introverso. Io ho fiducia che uomini che vengono dalla società civile possano realizzare una politica diversa, aprire l'Italia. Rondine è un esempio dell'Italia che si apre, di un'Italia che si internazionalizza in nome dei valori della solidarietà. Siamo alle ultime battute della campagna elettorale. Oggi una novità, potremmo dire, clamorosa sul fronte avversario. Giannino si legge in molti siti, in molti giorni d'estate, che vorrebbe dimettersi. Noi non abbiamo avversari, mi dispiace, perché siamo fuori dalla cultura della competizione tipica della Seconda Repubblica. Che Giannino si dimetta, mi dispiace, ho molto rispetto per lui. Quello che noi chiediamo ai nostri parlamentari come prima cosa è andare in Parlamento e fare la riforma elettorale, perché non si può continuare a votare con questa legge e operare per il dimezzamento dei parlamentari.